Roberto Maffiotti, biologo dal 7 febbraio, direttore del Dipartimento ARPA di Torino. Quali sono le sue esperienze professionali pregresse? Un'esperienza di 35 anni di lavoro nel settore ambientale, nel pubblico da oltre 20 anni, con una responsabilità di responsabile del Dipartimento di Alessandria d'Asti di ARPA e prima ancora come responsabile delle valutazioni di impatti ambientali di ARPA, questo a Torino, per tutta la regione. Quali obiettivi si prefigge per questo nuovo incarico? Il Dipartimento di Torino è un Dipartimento storico dell'ARPA, con strutture articolate e con validissimi tecnici che lavorano nel settore da moltissimo tempo. Mi prefiggo di cercare di fare in modo che il Dipartimento possa aprirsi sempre di più ad attività coordinate con gli altri Dipartimenti e con la città, l'esigenza della città e della provincia, per utilizzare al meglio e in sinergia tutte le energie che abbiamo all'interno della nostra agenzia. Grazie a tutti.